ma come godo a bergamo vincere tre una gabbè po' vuon dire affa mamma mia si gode ma se c'è proprio a Cancun a Capriolo, Saltellan un saluto perché se no mi scordo a Mirko Buono mi sembra sì, che ieri ha dato il pronostico e il Napoli ha detto che vinceva 2-1 ciao Mirko, ma ti hai sbagliato perché sono tre limoni bello zucuso a parte i limoniti che tenono pure a Calanimitica mamma mia guardate che sono sincronizzato guardate come si muovono bello sincronizzato a puntata qua e a puntata là, a puntata qua a puntata qua e là è bello zucuso zucuso 3 3 3, 3, 3, 3 mamma mia, guarda me non è più ecco i bambini che fa e basta che vieni limone e vieni i regali i regali con la mia limonitica particolare voglio ecco i bambini che fa voglio essere una partita tosta non è che l'essimo ha fatto una grandissima partita attenzione no però abbiamo diciamo il riparto difensivo abbiamo veramente giocato bene con attenzione infatti diciamo il gol subito è stato solo perché Koulibaly in là si è fatto saltare dalla traiettoria se no nemmeno quello prendevamo Natalanta che effettivamente in casa doveva fare lei la partita perché è così doveva fare lei la partita ha fatto lei la partita ha fatto tanti tiri in bordo però a noi ci è bastato poco per quindi siamo stati noi più più concisi rispetto all'Atalanta più concisi poi calcolando le assenze Cosimeno non giustiva Di Lorenzo non giustiva quindi sapete assenze raccomani non c'era assenze importante che in difesa devo essere proprio sincero non abbiamo sentito assolutamente niente di questa mancanza perché il ragazzetto Zaniolo Zaniolo comunque Zaniolo ha giocato benissimo veramente ha giocato benissimo avete visto quando si è saltato a due su quella fascia veramente ha fatto ha giocato con personalità Zaniolo la stessa cosa pure con Gesù non gli si può imputare assolutamente niente e voglio precisare pure un'altra cosa Mario Rui viene sempre criticato che tenono tutti i difetti ma tenono sacchi cazzim c'è un sacco di cazzim ma oggi nel reparto difensivo veramente in Coppa fascia là era difficile cosa passava veramente con quella cazzim che la poi a centrocampo invece sinceramente inutili per me inutili Zilischi è anche inutili proprio Zilischi è anche migliore a centrocampo lo Bottica lo Bottica ha fatto un partitore Mertens purtroppo l'annanze è il primo due gol sono venuti da calci da fermo calci di coro realizzato da Lorenzo Inzigni e poi su uno schema su punizione che un bel gol di politano e automaticamente 2-0 abbiamo chiuso che potevamo pure chiudere 3-0 il primo tempo attenzione perché sicuri Balì la indirizzava meglio dopo che si è rubata la palla secondo me la chiudevamo pure 3-0 nonostante che c'è stata molta talante in fase di gioco e di ovviamente di possesso palla ok ma facevano girare molto bene la palla noi abbiamo fatto la partita nostra che dovevamo fare cazzimma già ne ho vista di cazzimma veramente ne ho vista e questo mi fa piacere vedere in una squadra che mancano 6-7 giornate quando sia alla fine del campionato quindi se tu hai l'obiettivo di vincere questo benedetto non voglio dire perché basta non lo dico ma se c'ha intenzione se c'ha intenzione devi fare tutte le partite così ma dobbiamo fare tutte le partite così a Fiorentina non teniamo in casa quindi sono tutte partite ma sono tutte finali che non ci possiamo permettere di perdere su tutte partite decisive poi aspettiamo agli altri di fare passi falsi tipo Milan stasera c'è un altro big match Juve Inter se ricita a me che risultato vorresti da questo incontro penso che tutti vorrebbero un bel pareggio bello non fa male nessuno né una né n'altra il Napoli recupera quattro punti da queste due da un e due da un altro quindi non so se rendo l'idea stacchi l'Inter a cinque punti e la Juve che mi sembra che stava a quattro punti quindi la metti a sei sono due partite l'Inter la metti a cinque quindi un pareggio un pareggio è fondamentale in un pareggio il risultato giusto per la vittoria di oggi che oggi a Bergamo noi partivamo sfavoriti vi dico solo questo mi sono giocato la bollette ho messo due fisso a Napoli era quotato tre euro e dieci l'Atalanta due euro e quarantacinque quant'era era quotato quindi per farvi capire che Napoli era sfavorito tre euro e dieci in Napoli era quotato l'ho giocato l'ho preso in Napoli sto perdendo il Monza che sta perdendo con non so con chi gioco mi sono dimenticato quindi sta perdendo una zero e forse perderò la bolletta ma non per il Monza che comunque c'aveva altre tre quattro squadre dimmi ho visto adesso adesso sto perdendo un bel euro ecco Michi mi conferma mi conferma purtroppo la bolletta è partuta il Monza sta perdendo due a zero una squadra che mancavano se si faceva vincevi io avevo primo posto perché ambisce alla Serie A vai a perdere una squadra dodicesima in classifica il Como quella che è via va a piacere quando le bollette effettivamente non le devi beccare non le devi beccare perché secondo me c'ho questo presentimento c'ho proprio questo presentimento che la bolletta stasera con due euro di 350 euro usciva la perdo solo per il Monza poi vi dirò in un altro video se effettivamente sta bolletta l'ho persa solo per il Monza ma adesso è considerato visto che sto perdendo spero che l'ho aperto pure con qualche altra squadra così non ci rimango male non ci rimango male perché a parte 350 euro per una squadra c'è pure la gente che ha perso di più per carità però noi la famiglia comune io e mio figlio amico che giochiamo le bollette valiamoci ci facciamo la bollettella da due euro questa è la nostra portata e andiamo col poco niente ragazzi contento stra contento perché vi ripeto oggi avevo un presentimento positivo è vero però non era facile oggi partivamo sfavorito è proprio stufato perché un apolo quando parte sfavorito è partito poi diciamo che parte parte sfavorito è va bene è partito sfavorito perché si sa testate giornalistiche gazzetta dello sport dell'aurelis covid o come si dice o tre a zero a tavolino rai ma non sapete come dovete rompere i coglioni le palle che ci hanno fatto arrivare i coglioni non ci vogliono perdere sono 32 anni che non vengiamo i scudetti cercate non c'erano alemane come prima parte ho fatto la moneta sono 32 anni che non vengono i scudetti perché noi vengono una cosa che forza sono 32 anni che non vengono i scudetti cercate non c'erano scasso cercate non c'erano ce l'avete rotto ce l'avete rotto sono 32 anni non va a buffare non va a essere una pericchia che è legata non andiamo per il poco però non c'erano un pirocco avete capito avete capito ecco qua niente di meno ci avete dedicato una prima pagina questa gazzetta del sport sciupa faccia post sti morte fam sti morte fam perché così si chiamano morte fam ma morte fam d'animo siete siete morte fam d'animo questo siete siete vergognosi siete vergognosi siete ma lasciateci stare lasciateci stare mucca lasciateci stare vabbè vabbè ma ci siamo tutti qui per i scimitaggi che ormai avete capito perché Napoli una fastidia veramente siamo siamo proprio nauseanti siamo proprio nauseanti siete una squadra che sta facendo sempre la fastidia con destabilizzata sono 32 anni che non vincimmo lo scudetto niente di meno noi con 91 punti l'hanno disato non abbiamo vinto lo scudetto con 91 punti non c'è nessuna squadra che non ha vinto lo scudetto arrivato a 91 punti ovviamente sto parlando del campionato italiano e attenzione perché con 91 punti la squadra ha sempre vinto lo scudetto a quei punti là noi con 91 punti non vinceremo ma io con 93 punti vinceremo lo scudetto però attenzione con 93 punti vinceremo lo scudetto ma stiamo ancora due anni e vi dirò che non si trovano chissà perché non si trovano questi video non vi scordate perciò ma non voglio però non ci rompete i coglioni non ci rompete i coglioni è chiaro ciao faccio una forza Napoli sempre perché tutto riesce calcisticamente parlando e il limone è siccherato anche i bipputi che faccio e forza Napoli